Liturgia della Parola, ventunesima domenica del tempo ordinario, anno B Dal libro di Giosuè In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli iscrivi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire. Se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli amorrei, nel cui territorio abitate, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore». Il popolo rispose «Lontano da noi, abbandonare il Signore per servire altri dèi». «Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore perché Egli è il nostro Dio». Parola di Dio «Gustate e vedete come è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino». «Gustate e vedete come è buono il Signore». «Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il bulto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo». «Gustate e vedete come è buono il Signore». «Gridano al Signore, li ascolta». «Gridano al Signore, li ascolta». «I libera da tutte le loro angosce». «Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti». «Gustate e vedete com'è buono il Signore». «Molti sono i mali del giusto». «Ma da tutti lo libera il Signore». «Custodisce tutte le sue ossa». «Neppure uno sarà spezzato». «Gustate e vedete com'è buono il Signore». «Il male fa morire il malvagio». «E chi odia il giusto sarà condannato». «Il Signore riscatta la vita dei suoi servi». «Non sarà condannato chi in lui si rifugia». «Gustate e vedete com'è buono il Signore». «Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini». «Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa. Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua, mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché dissimile. Ma santa e immacolata. Così, anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne. Anzi, la nutre e la cura come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio Alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli murmuravano riguardo a questo, disse loro «Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là, dov'era prima?». «È lo spirito che dà la vita. La carne non giova nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici «Volete andarvene anche voi?». Li rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo?». Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Parola del Signore 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 Grazie a tutti.